Tu tra poco eh! Allora andava a scuola tutti i giorni, però non abitava vicino alla scuola, abitava in campagna e quindi ogni giorno faceva un bel tragitto a piedi, intanto si guardava intorno, guardava i leviti, guardava il terreno, il sassolino, dava un calcio. Un giorno però, mentre cammina e torna verso casa, vede una cosa per terra, una cosa e non capisce bene da lontano, poi si avvicina, si avvicina e guardate cosa trova per terra, trova una busta bianca, tutta sgualcita, tutta rovinata, bianca, non aveva nome, non aveva niente. Allora Luciano guarda dentro, sapete cosa c'era dentro? C'erano tanti soldi, tanti soldi, ma di chi saranno? Non hanno mica un nome? Saranno allora miei. E tutto contento, torna a casa dalla mamma e gli porta la busta e dice, mamma, guarda cosa ho trovato oggi tornando da scuola, una busta piena di soldi. La mamma guarda e dice, ma dove l'hai trovata? L'hai rubata? Chi te l'ha data? Ma no mamma, ma figurati, l'ho trovata lì per strada, non ha un nome, non ha niente. Allora la mamma guarda, conta e c'erano 650 euro, che sono proprio tanti. Ma la mamma di Luciano, che era una persona molto corretta, dice, no, non sono dei soldi nostri, noi non li possiamo tenere. Tu mi riporti dove l'hai trovata? Forse c'è qualcuno che li sta cercando. E se non troviamo nessuno, andiamo dai carabinieri, la consegniamo e poi si arrangeranno loro, raccontiamo loro cosa è successo. Luciano, che era un bambino molto ubbidente, dice, va bene mamma, facciamo come dici tu, se tu pensi che faremo così. Porta la mamma lì lungo il sentiero e sapete chi trovano? Un uomo, tutto sudato, tutto preoccupato, che farfugliava, e parlava da solo e guardava in giù e guardava in su e spostava un sasso e guardava in mezzo alle foglie. Mamma mia, agitatissimo quest'uomo. Allora la mamma di Luciano si avvicina e dice, ma signore sta cercando qualche cosa. Eh sì, ho perso una busta, ho perso una busta bianca, era importantissima, c'erano dei soldi. Ah davvero? E quanti soldi c'erano? E questo signore, che però era un po' furbetto, ha detto, aspetta che rispondo un po'. Dice, beh, c'erano circa mille euro. Eh, allora Luciano, che era un bambino così carino e così onesto, dice, eccola, eccola qua, eccola qua, l'ho trovata. Ah, tieni caro signore, questa è la tua busta. Allora il signore guarda dentro, conta i soldi e dice, eh no, caro mio bel bambino, qua ce ne sono 650, io ti ho detto che ce n'erano circa mille. Eh, qui la differenza dov'è? Dov'è? L'hai rubata? L'hai rubata? No, ma io no, dice Luciano, io no. Luciano era proprio un bravo bambino, era un bambino sincero, non diceva le bugie, quindi non li aveva proprio rubati. Allora inizia il signore ad alzare la voce, ma come? E iniziano a battibeccare, ma allora tu, allora interviene la mamma. In quel mentre passa una pattuglia dei carabinieri, si ferma, dice, stop, 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 cos'è questa confusione? Spiegatemi un attimo. Eh, allora, dicono al maresciallo, eh, guarda qua, questo bambino mi ha rubato questa busta, mi ha rubato dei soldi, c'erano circa mille euro, ce ne sono 650, il bambino me li ha rubati e me li deve ridare. Ma il maresciallo, che non era vecchio per niente, aveva capito che quest'uomo era un po' un furbacchione. Allora dice, ma senti, tu hai visto che questo bambino ti ha rubato i soldi? No, non l'ho visto perché mi ha ridato la busta così. Ma, secondo te, se lui avesse voluto rubare, se Luciano avesse voluto rubare, avrebbe rubato solo una parte, li avrebbe rubati tutti e non gli avrebbe neanche ridato la busta. Allora il maresciallo dice, beh, sai che c'è, caro signore? Effettivamente, forse questa non è la tua busta, forse il vero proprietario è proprio Luciano. Allora il maresciallo prende la busta, la consegna a Luciano e dice, sì, perché caro signore, se tu volevi circa mille euro e qui ce ne sono 650, allora vuol dire che non è proprio la tua busta. E no, questo signore allora dice, no, scusa, mi sono sbagliato, no, era mio, no, 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 forse ho capito male, era troppo tardi, il maresciallo aveva capito che quest'uomo voleva fare il furbacchione e ha premiato Luciano per la sua sincerità e la sua onestà. Cosa ci insegna questa storia? Questa volta è andata bene, Luciano era proprio un bambino onesto, però oggi purtroppo vince chi è più furbetto, vince chi per ottenere qualche risultato anche un po' bara, magari rubacchia, magari dice qualche bugia. E noi invece abbiamo un grande maestro che è Gesù, che proprio vuole tutto il contrario rispetto a come si è comportato questo furbacchione, vuole che noi ci comportiamo come Luciano, vuole che noi abbiamo un cuore puro, che noi siamo delle persone oneste, non come tutti gli altri che fanno i furbacchioni. E c'è scritto anche nella Bibbia, nei Salmi, ascoltate cosa c'è scritto in Salmo 32. Beato l'uomo nel cui spirito non c'è frode alcuna. Ricordiamocelo tutti i giorni. Grazie, buon sabato. Allora, chiediamo a Umberto di alzarsi, grazie che l'ha già fatto, perché oggi avremo un brano speciale. E quindi prima del sermone, quindi prima della lettura dei testi, avremo la nostra Miriam che ci dedicherà un brano. Quindi vi invito a prestare silenzio e ad ascoltare Miriam, che oggi ci fa un dono. Intanto, grazie Miriam. Grazie. 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 Fratelli, vogliamo aprire la parola del Signore in seconda cronache e leggiamo 31, 20 e 21. 31, 20 e 21. E dice Ezechia fece così in tutto Giuda, fece ciò che è buono, retto e vero davanti all'Eterno, il suo Dio. In ogni lavoro che intraprese per il servizio della casa di Dio, per la legge e per i comandamenti, per cercare il suo Dio, egli lo fece con tutto il suo cuore. Per questo, egli prosperò. Aia, da se lo legiamo in lingua rumena. A doua cronici, 31, versetul 20 e 21. Iată ce a făcut Ezechia, in tot Iuda, el a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat, inaintea Domnului, Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit in tot ce a făcut, pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru prorunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Allora, ancora buon sabato a tutti. Grazie, Emily. Bravissima. Ok. Allora, il sermone di oggi nasce dal volto di una ragazza di 15 anni che durante la scuola del sabato è rimasta tutto il tempo con la testa bassa. E vi spiegherò il perché. Durante la scuola del sabato un suo familiare ha iniziato a raccontare nella classe tutto quello che di lei non andava bene. Cioè, non proprio tutto, ma alcune cose. Ed erano sufficienti per permettere a questa ragazza di 15 anni di provare un certo senso di vergogna. E ogni tanto interveniva sta ragazza e diceva papà, non adesso, e papà continuava. Poi ha detto papà, fermati. E papà continuava. E lei è rimasta circa 25 minuti con la testa bassa. E non stava leggendo, non stava studiando. Era semplicemente in grossa difficoltà. Allora, nella mia mente è nato un pensiero che forse è nato anche a voi mentre ve lo raccontavo. E mi sono chiesto che cosa è passato nella mente di quella ragazza. vergogna, tristezza, forse rabbia, forse anche delusione. Perché pensate se il nostro padre incominciasse a raccontare, il nostro padre, la nostra madre, non è una questione di genere, se il nostro padre, la nostra madre iniziasse a raccontare tutte le cose che non funzionano davanti a una platea. e lì è nata una mia seconda domanda pastorale. La domanda è stata questa ragazzina tornerà in chiesa? è per me preoccupante a livello pastorale. Questo lo vediamo dopo. Ah beh, lasciamolo. Ormai è andato. La terza domanda è diversa ed è per quale motivo noi andiamo in chiesa? O per quale motivo noi veniamo in chiesa? Posso avere come risposta il fatto di venire in chiesa per umiliare mio figlio? Eppure è capitato. Possiamo venire noi in chiesa per offendere le persone eppure in quella storia è capitato? E forse capita anche in altre storie. Quindi la domanda è perché frequentiamo la chiesa? E non voglio la risposta adesso. Stamattina nella mia classe della scuola del sabato abbiamo visionato insieme con i membri della classe che alcune cose sono visibili e quindi giudicabili. Le offerte, le decime, la presenza, il lavoro, ma ne esistono tante altre nascoste che sono nella nostra mente, nei nostri cuori che gli altri non vedono. Ma che al tempo stesso ci scagionano dalle accuse. Però torniamo indietro perché frequentiamo una chiesa? E ho pensato tanto in settimane e mi è arrivata una risposta che vorrei condividere con voi. Già il nome della nostra chiesa è una grande risposta. Chiesa cristiana avventista. Il termine chiesa è un termine che arriva dalla cultura greca ed è la traduzione del termine ecclesia. Ecclesia è un termine composto. Ecclesia deriva dal greco chiamare. Chiamare qualcuno. ec è un prefisso che vuol dire chiamare fuori e quindi è un prefisso legato al moto dallo spostamento quindi ecclesia vuol dire semplicemente chiamato fuori da una realtà. E in maniera logica voi oggi noi oggi siamo qui perché siamo stati chiamati da Dio fuori dalla società. fuori dalle nostre case per essere insieme in un luogo. Ecclesia è chiamato fuori da una realtà per essere insieme. Quindi chiesa cristiana avventista. E la cosa interessante è che noi oggi siamo chiamati in chiesa non dal pastore ma siamo chiamati da Dio. La domanda è se siamo chiamati da Dio posso andare in chiesa e offendere il prossimo? Quindi forse la chiamata non è arrivata da Dio. secondo termine chiesa cristiana cristiana e non voglio andare a fare ora della teoria sul termine cristiano mi limito a dare una definizione povera cristiano uguale imitatore di Cristo siamo d'accordo almeno su questo essere cristiani vuol dire imitare Cristo domanda se sono chiamato a imitare Cristo perché devo trattare male Gastone? quindi se sono chiamato a imitare Cristo perché abbiamo difficoltà nelle relazioni? Terzo aspetto avventista aspettiamo il ritorno di Cristo lo annunciamo ma proprio ieri sera nella classe nell'incontro con Filippo e con gli altri animatori ci siamo posti una domanda abbiamo paura del ritorno di Cristo? alcuni sì allora perché siamo avventisti se attendiamo il suo ritorno per paura è come dire vai è finita la scuola torniamo a casa no col cavolo perché ho paura di papà e mamma e quindi faccio tardi guardate come il semplice nome chiesa cristiana avventista ci mette in difficoltà per almeno tre cose forse non siamo chiamati da Dio forse non siamo imitatori di Cristo forse il ritorno di Cristo non ci interessa però siamo presenti in chiesa ok? andiamo avanti perché come avrete ben capito in anticipo il personaggio è Zechia è Zechia capitolo 31 dove l'ho messo? allora ai bambini che sono qua davanti Clara Anita Giulia di tanto in tanto vi chiederò di venire davanti a mettere a posto i colori dentro il suo tubicino dentro il suo contenitore va bene? di tanto in tanto un volontario volontario verrà a sistemare le cose dopo il primo è Cristo va bene alzato la manina bene dopo vediamo un attimo buoni gli ho viste le mani lì lì non alzare la mano ok andiamo avanti perché il titolo del culto è ogni cosa al suo posto Zechia Zechia che è il personaggio e il protagonista vediamo chi è stato uno dei migliori re di Giuda ottavo secolo avanti Cristo purificò il tempio e ristabilì il culto al Signore seconda cronache capitolo 29 31 celebrò una solenne festa di Pasqua seconda cronache 30 distrusse l'idolatria seconda cronache 31 sostenuto da Isaia quindi Zechia era contemporaneo di Isaia fu liberato dagli assalti dell'esercito a Siro e lo riporta in seconda cronache 32 37 37 l'ultima parte è quella che amo di più fece ciò che è buono retto è vero davanti al Signore suo Dio seconda cronache 31 20 il testo che hanno letto Vladina e Gastone e Zechia fece ciò che è buono retto è vero davanti a Dio mettiamo insieme tutti i pezzi e con voi oggi vorrei leggere il capitolo 31 e vivere insieme a voi un percorso e Zechia al capitolo 31 di seconda cronache ci presenta tutta quella che è una lista di alcune cose buone per vivere un rapporto sano con Dio il mio obiettivo oggi non è farvi o farci sentire in colpa è capire dove siamo non come luogo come luogo tendenzialmente è una chiesa se poi ci addormentiamo possiamo essere confusi ma capire dove siamo con Dio ok allora guardate la storia come interessante seconda cronache capitolo 31 per chi ci vuole seguire quando tutte queste cose furono compiute tutti gli israeliti che si trovavano lì partirono per le città di Giuda frantumarono le statue abbatterono gli idoli di Astarte demolirono gli altri luoghi e gli altari in tutto Giuda e Beniamino e Nefraim e in Manasse in modo che nulla più ne rimase poi tutti i figli di Israele se ne tornarono alle loro città ciascuno nella sua proprietà il primo testo racconta che la prima cosa che ha fatto Ezechia è stato demolire ciò che era sbagliato davanti a Dio il primo passaggio per comprendere dove siamo è ammettere che c'è qualcosa nella nostra vita che non funziona sapete quanto è complicato dire ho sbagliato vi è mai capitato di andare da qualcuno e dire ti chiedo scusa ho sbagliato proviamo un senso di liberazione incredibile l'invito che ci fa qui Ezechia qual è iniziare a frantumare le cose sbagliate della nostra vita è il primo passaggio lo riusciamo a fare non voglio dire che siamo tutti quanti lì vivremo un percorso di otto tappe sarà veloce e chiedo a Cristian che ha alzato la mano vieni qua davanti e metti due colori là dentro i colori che vuoi tu il primo passaggio in un percorso sano con Dio e con l'essere umano consiste nel riconoscere che abbiamo tante cose che non funzionano è l'unica possibilità che abbiamo di sistemare le cose che non funzionano grazie Cristian cerchiamo alla fine di mettere tutte le cose dopo al loro posto ogni pezzo al proprio posto Ezechia ci dice riconosciamo che alcune cose non funzionano il testo va avanti e dice Ezechia ristabilì ascoltate le classi dei sacerdoti dei leviti nelle loro funzioni ognuno secondo il genere del suo servizio sacerdoti e leviti per gli olocausti e sacrifici di riconoscenza per il servizio per la lode per il canto entro le porte del campo del Signore una volta che Ezechia ha riconosciuto che c'è tanto che non va che cosa ha ristabilito il sacerdozio vuol dire lo studio della parola del Signore abbiamo qui la realtà dei leviti il servizio nei confronti del Signore poi ha ristabilito la lode e il canto Ezechia ci sta dicendo in una maniera bella una volta che riconoscete che c'è qualcosa che non va il secondo passaggio è quello di ristabilire la vostra relazione con Dio traduco Alan è sbagliato lo deve riconoscere e una volta che riconosce che è sbagliato cosa dovrei fare andare da Dio e ristabilire la relazione con lui ve la metto povera cerco ogni volta di raccontare qualcosa della mia vita per farvi capire che quello che leggiamo può essere realtà nei momenti difficili della mia vita quando in maniera sbagliata mi sono arrabbiato con Dio perché spesso la Bibbia ci indica che tutto viene da Dio il bene e il male e quando non comprendiamo che il male viene da Satana e lo attribuiamo a Dio perché Dio non compie le opere ci arrabbiamo con Dio ma ricordiamoci il male viene da Satana e in un pensiero sbagliato io lo associo a Dio invece e quando mi arrabbio con Dio io mi allontano io come essere umano nella mia vita in due esperienze particolari della mia vita quando mi sono arrabbiato con Dio prima ho capito che stavo sbagliando e poi piano piano ho ricominciato a pregare a leggere la Bibbia a rifrequentare la Chiesa a ristabilire il mio rapporto con Dio e quella per me è stata festa ma prima devo riconoscere che sono sbagliato poi ristabilerò con Dio il mio rapporto il testo continua e dice versetto 3 stabili pure la parte che il re avrebbe prelevato dai suoi beni per gli olocausti e Zecchia era il re per gli olocausti del mattino e della sera per gli olocausti dei sabati dei noviluni e delle feste come sta scritto nella legge del Signore una volta che Zecchia riconosce il peccato ristabilisce la sua relazione cosa dice ora in prima persona cosa devo fare e si mette in gioco in prima persona non guarda quello che fanno gli altri guarda se stesso e in prima persona tra virgolette si autotassa e dice io a Dio cosa devo fare vi posso fare una domanda povera e chiedo scusa ad Adriano che è il nostro tesoriere ci siamo mai chiesti se gli altri restituiscono la decima abbiamo mai guardato se gli altri la mettono dentro guardiamo se gli altri mettono l'offerta non ci deve interessare perché Zecchia che è il re dice io cosa do il mio Dio e stabilisco cosa devo dargli è il mio rapporto con Dio mio personale relativo a questo versetto vi presento un aspetto questo è quello che mi ha messo più in difficoltà a livello umano e pastorale e a volte con Romina siamo in difficoltà io credo che l'unica possibilità che io ho come pastore di vivere questo lavoro è quello di non avere aspettative quanto è complicato nella vita non avere aspettative tradotto io non mi aspetto niente da nessuno questa è l'unica possibilità che io ho per fare questo lavoro pensateci nella vostra vita avete aspettative sempre troppe e tante la difficoltà è vivere senza aspettarci nulla perché perché continuiamo a guardare quello che fanno gli altri perché la società spesso non ti dà quello che tu dai e qual è la bellezza di ricevere qualcosa di inaspettato ma io questo lo posso vivere solamente se non guardo quello che fanno gli altri perché nel momento in cui guardo quello che fanno gli altri mi chiedo e a me cosa danno e a me cosa fanno e io cosa ricevo domanda come vivo con Dio io da Dio non mi aspetto nulla ma ringrazio per la grazia ricevuta punto perché se non mi arriva quello che aspetto ma rabbio con Dio è a livello ecclesiastico se la chiesa non mi dà quello che aspetto ma rabbio con i fratelli di chiesa e c'è sempre una domanda che è una barazzelletta ma per me è vero quando a volte mi dicono pastore perché non mi hai chiamato per due settimane la domanda perché non mi hai chiamato tu ma non in quanto pastore membro ma in ogni relazione il telefono non ha una direzione ne ha due e non aspettarsi ci permette di vivere sanamente in maniera sana scusate è complicato però è vero ascoltate come continua ordinò al popolo agli abitanti di Gerusalemme di dare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte affinché potessero darsi all'adempimento della legge del Signore non appena quest'ordine fu pubblicato i figli di Israele diedero in gran quantità le primizie del grano del vino dell'olio del miele e di tutti i prodotti dei campi e portarono la decima di ogni cosa in abbondanza quando Ezechia si è autotassato ha detto agli altri fatelo anche voi questa è la difficoltà invitare gli altri a fare qualcosa se io per primo lo vivo raduno Aisa i bambini vi hanno seguito perché voi siete andati perché voi avete fatto le cose quando a Cormina abbiamo fatto i campeggi per 15 anni e proponevamo dei giochi ci dicevano li facciamo se prima li fate voi è comodo dire agli altri di fare quello che noi non vogliamo fare Ezechia l'insegnamento che ci dà qual è? fate quello che io ho già fatto questo è un passaggio sano da vivere in chiesa perché se quel giorno la figlia avesse iniziato a raccontare le cose brutte del papà o della mamma davanti a tutti a cosa saremmo arrivati? se noi in chiesa iniziassimo a raccontare le cose brutte degli altri dove arriveremo? domanda dove stiamo andando? è complicato Clara metti insieme qualche matitina dentro vai quelle che vuoi tu prendine tre o quattro quelli che ti piacciono versetto 6 i figli di Israele e di Giuda che abitavano nelle città di Giuda portarono anch'essi la decima degli armenti e delle greggi e la decima delle cose sante che erano consacrate al Signore al loro Dio e delle quali si fecero tanti ammassi ascoltate cominciarono a far affluire tutto in quegli ammassi il terzo mese e finirono il settimo mese quanti mesi ci sono voluti? sette siamo veramente convinti che un percorso con Dio è fatto da un sabato? siamo convinti che il mio culto cambierà la vostra vita? no il testo ci racconta che un percorso sapete qual è la cosa più difficile? è accettare il percorso degli altri perché? perché non ci va bene se gli altri sbagliano stesso discorso guardiamo gli altri non ci va bene quello che fanno gli altri ma non comprendiamo che c'è un tempo per essere divertenti io da circa un anno e mezzo sono diventato vegetariano è una scelta giusta o sbagliata? fermi è una scelta non sto difendendo l'uno e l'altra è una scelta ma è un mio percorso guai andare da qualcuno a dire ah se non lo sei sei sbagliato è una propria scelta avete mai pensato che noi abbiamo 28 dottrine in chiesa? che abbiamo un manuale di chiesa talmente vasto che siamo una chiesa mondiale e che le cose le capiamo passo passo mentre noi pretendiamo dagli altri i nostri tempi e questo è diabolico non siamo noi chiamati domanda ai vostri figli chiedete tutto quello che voi avete appreso in 40 anni? no però con i figli aspettate con i membri di chiesa? no perché? perché sono adulti abbiamo tempi e qui il testo lo racconta ci misero sette mesi per dare il meglio di quello che avevano al loro Dio Laura vuoi mettere qualche matitina dentro? per mettere e per dare qua dentro qualche matita dopo Emily e quindi l'idea sette mesi per vivere i tempi con Dio il testo continuo ascoltate dice Ezechia e i capi vennero a vedere quanto era stato ammassato e benedissero il Signore e il suo popolo israele poi Ezechia interrogò i sacerdoti e le viti relativamente a quegli ammassi ascoltate e il sommo sacerdote Azzaria della casa di Sadoc gli rispose da che si è cominciato a portare l'offerta nella casa del Signore abbiamo mangiato ci siamo saziati ed è rimasta roba in abbondanza perché il Signore ha benedetto il suo popolo ed ecco qui la gran quantità che è rimasta portando il meglio che abbiamo a Dio ci rimane sempre qualcosa la domanda è a Dio portiamo il meglio o portiamo gli scarti quando Orazio mi informa che per l'uscita Adra non c'è nessuno per andare è strano quando sabato scorso ero in centro a Padova a distribuire i volantini ed ero da solo è strano cosa diamo a Dio quello che ci rimane o le primizie quello che vi propongo è un percorso e ripeto non è un percorso per giudicarci è un percorso per crescere perché il testo conclude che è rimasto in abbondanza se noi impariamo a dare il meglio che abbiamo a Dio Dio è talmente grande che ci restituisce in abbondanza tre volte quattro volte cinque volte tanto e noi a volte siamo talmente piccoli che diciamo è così che funziona la decima ma Dio lo fa con la salute lo fa con la famiglia lo fa con il tempo lo fa con tutto quello che noi abbiamo e ce lo dimentichiamo diamo a Dio quello che ci è rimasto non il meglio di quello che abbiamo versetto 11 mancano due passaggi chiedo a Anita se hai il piacere scusa di mettere delle matitine ti è venuto un colpo al cuore versetto 11 ascoltate allora Zichia ordinò che si preparassero delle stanze nella casa del Signore e furono preparate penultima domanda noi prepariamo noi pianifichiamo la nostra vita con Dio la domanda è e cito Massimo e cito Anna e Pavel capirete perché da quello che so forse Michele mi dà conferma Massimo la mattina si alza prima si alza presto per studiare la parola di Dio cito Massimo non perché è migliore è perché quello che so è probabilmente quello che fa Massimo lo fate in tanti quindi cito lui perché conosco il suo caso pianifichiamo il tempo passato con Dio pianifichiamo il tempo con i nostri figli con Dio se la risposta è sì siamo in un buon percorso se la risposta è no pensiamoci cito Alessio Bellunato col quale studiamo la Bibbia insieme e lui mi fa Alan ho iniziato a fare una cosa bellissima prego con la mia fidanzata ed è diventato un appuntamento fisso per noi è interessante abbiamo quello che in chiesa si chiama il culto della famiglia prendiamo i bambini della nostra casa e studiamo con loro io mi ritaglio venti minuti della mia giornata per stare con Dio mi chiudo nella mia stanzetta se la risposta è sì bene se la risposta è no domanda come faremo a godere delle benedizioni di Dio Anna e Pavel ogni tanto chiedo a Pavel e lo ringrazio e dico grazie per quello che fai con Laisa come ti trovi e Pavel mi risponde sempre devi chiedere a loro ai bambini la domanda è e la risposta è carina è intelligente la domanda è perché avete iniziato a lavorare con Laisa e non voglio una risposta io semplicemente vi ringrazio ma è una cosa che avrete deciso insieme Pavel con Anna l'avete pianificata per il bene dei vostri figli perché amate Dio per le motivazioni che voi avete grazie ma c'è una pianificazione e se noi non pianifichiamo i risultati non ci sono e questo funziona per Massimo funziona per Anna e Pavel e per tutti coloro che lo fanno una bambina non mi ricordo chi forse era non mi ricordo ha detto ringrazio poi che era uno c'era la mia mamma chi? Clara ok quindi per Deborah quindi niente Claudio immagino da sola con i bambini a fare qualche chilometro pianificato se pianifichiamo c'è un risultato se non pianifichiamo le cose non funzionano l'ultimo passaggio non lo leggo perché è lungo però lo dico a Romina che mi ascolta e a tutte le mamme incinta dal versetto 12 al 18 trovate una serie di nomi divertenti per uomini possono essere possibili ispirazioni ma dal 12 al 18 racconta una cosa bellissima Dio in questi versetti racconta che tutto quello che è stato ammassato nelle stanze è stato distribuito ai bambini dai tre anni a tutti gli uomini registrati alle donne registrate alle famiglie registrate quello che le persone hanno portato Dio ha abbondantemente ridistribuito che cosa vuol dire questo perché Ezechiel lo presento come ultimo passaggio del suo percorso condividere con Dio vuol dire condividere con le persone io credo che chiesa sia questo io credo che chiesa non sia far restare una ragazzina venti minuti con la testa bassa ma chiesa sia vivere tutti questi percorsi e l'ultimo aspetto che vorrei condividere e chiedo all'ultimo volontario volontaria dei bambini vediamo se c'è ancora qualcuno sveglio lì l'indica sotto Danielino Danielino ti va ad aiutarci un secondo a mettere insieme le matitine vai vieni e sistema tutto metti tutte le matite dentro l'ultima la devi un po' incastrare perché è tutto preciso vai mette l'ultimo vai no no manca l'ultima cosa guarda intorno bravo il tappo posto chiuso ogni cosa al suo posto con Dio mettiamo tutte le cose al suo posto quando non ci riusciamo ci manca un pezzo e i testi che hanno letto poco fa Gastone e Vladina raccontano per i sacerdoti versetto 19 figli d'Aronne che abitavano in campagna nelle campagne delle loro città c'erano in ogni città degli uomini designati per nome per distribuire le porzioni a tutti i maschi per i sacerdoti a tutte le vite registrate nelle genealogie e Zecchia fece così per tutto Giuda fece ciò che è buono retto e vero davanti al Signore suo Dio in tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio per la legge e per i comandamenti cercando il suo Dio mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò cosa occorre per prosperare? io uso una frase da tanto tempo ed è vedere la vita con occhi diversi sapete che per essere felici non ci occorre la villa la macchina nuova il telefono da mille euro cosa ci occorre per essere felici? la risposta è della scuola del sabato e dei bambini ed è avere Cristo nella nostra vita ma quella risposta che sembra così scontata e così banale noi l'abbiamo dimenticato e quindi cerchiamo la felicità e il benessere nella pagamento personale e non ci rendiamo conto invece che nel non avere niente che incontriamo Dio e concludo il sermone con un flash di 30 secondi giovedì ero in carcere vado a trovare un detenuto che alcuni hanno conosciuto Francesco Capozzo vado a trovarlo lui è sempre sorridente e mi dice oggi lo studio biblico non lo voglio fare perché perché mia mamma sta per morire due mesi e se ne va e quindi Dio è messo da parte e ti dice quali sono le cose importanti della vita provate a rispondermi la casa provate a rispondermi la macchina provate a rispondermi il cellulare provate a rispondermi la vacanza provate a rispondermi quello che volete le cose importanti della vita cosa sono? è avere Dio nella vita e con Lui vivere la semplicità di quello che abbiamo e mentre molto spesso tutto questo passaggio noi lo trascuriamo fare le cose passo dopo passo consacrarci a Dio dare il meglio di quello che abbiamo a Dio anche se poco riconoscere i propri peccati non aspettarci nulla dagli altri mettere insieme tutti questi pezzi ci fa dire ogni cosa al suo posto è complicato io vi invito a farlo e spero che Dio ci possa aiutare a comprendere che la vita è fatta di quelle piccolezze che a volte trascuriamo e a volte lasciamo Dio fuori dalla nostra porta perché questo percorso non lo vogliamo fare che Dio ci possa aiutare che Dio ci possa benedire a vivere con Lui un percorso di fede fatto di spontaneità di semplicità ma anche di Chiesa io credo che Chiesa sia vivere in armonia chiamati fuori per essere insieme con occhi diversi buon sabato e benedizioni del Signore Amen grazie a tutti fratelli per favore dobbiamo fare un canto ma lo facciamo dopo che io ho detto qualcosa devo dire qualcosa allora mi posso un po' mettere nelle mani di Dio e dire che chiedo scusa a tutti i fratelli che magari ho offeso oppure ho trattato male perché dopo quello che ha detto il pastore non posso io fare la preghiera se prima non risolvo questo problema allora ripeto scuse a tutti i fratelli che si sono sentiti offesi da me adesso facciamo la preghiera se volete alciarvi in piedi nostro buon padre celeste creatore dell'universo che ci ha amati talmente tanto che ha dato suo figlio per noi a morire sulla croce sulla cosa più immiserabile che era in quel periodo signore vuoi tu perdonare le mie mancanze anche con la mia famiglia e con la chiesa e con tutte le persone che mi conosco fa che possa assorbire la tua volontà che la possa mettere in pratica accompagna i signori sofferenti i bisognosi e coloro che li stanno cercando fa che a noi siamo un tramite perché gli altri ci vedono e comprendono se veramente siamo con Dio accompagnaci signora durante questa tua giornata santa che solo noi la riconosciamo perché la maggioranza non la riconosce fa che diamo esempio ti chiediamo la tua pace e il tuo perdono dei nostri peccati e fa che veramente mettiamo ogni cosa nelle tue mani donaci la tua pace ancora e il perdono dei nostri peccati te lo chiedo nel santo nome di Cristo Gesù nostro Salvatore amén vogliamo adesso sentire il canto 219 maud Oggi tu l'appello del Signore, che in mezzo e in mezzo non vienrà, che mi condurrà il peccatore, che il resto il tuo errore e il tuo chierà. Di Signore, di Signore, alla che il tuo servo ascolta a te, di Signore, di Signore. Che risponderò, demanda me, quante creature in me smarrite, girano chiedendo ti pietà. Presto non tardar di l'occhio in vite, grande e buon Gesù ti salverà. Di Signore, di Signore, parla che il tuo servo ascolta a te, di Signore, di Signore. Che risponderò, demanda me, il Signore permette e ritorna, giudice sarà. Che risponderò, manda me, il Signore. Che risponderò, di Signore, di Signore, parla che il tuo servo ascolta a te, di Signore, di Signore. Che risponderò, demanda a me Caro padre che sei nell'alto dei cieli, ti vogliamo ringraziare perché abbiamo l'opportunità di essere insieme Di essere chiesa, di essere uniti, donaci il desiderio di poter essere un tuo corpo su questa terra Il corpo ha bisogno di poter andare avanti in maniera unita, in maniera coese, in maniera forte Abbiamo bisogno di essere l'uno la forza dell'altro Abbiamo bisogno, per fare tutto questo, della tua presenza nella nostra vita Permettici di vivere un percorso con te, un percorso fatto delle volte di difficoltà e di sofferenza E ti chiediamo di essere con te Ma soprattutto ti chiediamo di essere con i nostri bambini che sono qua davanti Di essere con le loro famiglie E che tu li possa benedire in ogni aspetto della loro vita Che possono essere delle case, dei focolari dove la tua parola è sempre aperta Dove lo sguardo è rivolto verso di te Dove il tuo insegnamento possa essere forte e possa essere un valore trasmesso da qui e per sempre E che tu possa benedire la nostra chiesa di Padova Che tu possa benedire tutta la città affinché si possa convertire a te E che tu possa essere l'ospite speciale di ogni singolo essere umano Tutto questo lo chiediamo non perché non avessimo alcun merito Ma nel nome di Cristo che è morto per noi Amen Buon sabato a tutti e ricordo alla pre-commissione di nomina Che ci incontreremo nella stanza con i divanetti per vivere la pre-commissione di nomina Che ci incontreremo nella stanza con i divanetti per vivere la pre-commissione di nomina Che ci incontreremo nella stanza con i divanetti per vivere la pre-commissione di nomina